Bentornati a Patchwork, ciao da Valentina. Oggi proveremo a realizzare un bigliettino da auguri per la festa di un bambino. Per realizzarlo abbiamo bisogno di un pezzettino di carta crespa come questo, del cartoncino bianco, un palloncino colorato, un occhio autoadesivo e dell'ovatta. Cominciamo! Come primo passaggio riempiamo il nostro palloncino con dell'ovatta e daremo in questo modo la forma di una balena al nostro bigliettino. Adesso andiamo a creare il viso della nostra balena e la incolliamo sul nostro bigliettino. Andiamo a creare le onde del mare con un pennarello blu. Andremo a tagliare adesso delle strisce di cartoncino bianco in modo da creare quello che è il soffio della balena. Avvolgiamo in questo modo le strisce e andremo ad attaccarle sulla nostra balena. Ed ecco realizzato il nostro biglietto di auguri. Provateci anche voi, è molto semplice. Vi aspetto alla prossima puntata di Patchwork. Ciao!